Strada provinciale 56 della città metropolitana di Catania, ci troviamo in una delle piazzole di sossa che insistono su questa strada che da Paternò sale verso Belpasso. Più volte abbiamo riportato nei nostri telegiornali la situazione delle microdiscariche. Ecco, questa piazzola era invasa, addirittura occlusa esattamente qui dai detriti e dall'immondizia. Adesso, dopo un protocollo fra la città metropolitana di Catania e diversi comuni di quest'area, anche di altre aree, è stata avviata la bonifica. E ne abbiamo parlato con il neosindaco di Belpasso, Carlo Caputo, che anche come suo impegno, quello di ripulire dalle microdiscariche, il territorio è stato presente. E non sarà la prima ripulitura dalle microdiscariche, ma altre, nel territorio sia di competenza della città metropolitana sia del territorio comunale. In collaborazione con la città metropolitana si sta iniziando la bonifica di queste microdiscariche lungo gli slarghi e le strade provinciali e anche nelle strade urbane del comune di Belpasso, nelle fatti specie. Questa è un'azione che si sta facendo anche insieme ad altri comuni, perché è un'azione concordata in un tavolo tecnico in prefettura. E quindi si sta provando a rimuovere tutte le microdiscariche presenti. Il problema sarà poi il passo successivo. Durante la mia prima sindacatura avevo lanciato questa azione, questa attività con le fototrappole e avevamo ottenuto anche buoni risultati. Adesso la riprendiamo, me ne sto proprio occupando in questi giorni, quindi conto dopo questa rimozione di rifiuti di iniziare con l'installazione di telecamere mobili, così da spostarsi in ogni luogo. La questione rifiuti e microdiscariche non riguarda ovviamente soltanto il comune di Belpasso è un po' un fallimento che pesa anche sulla politica regionale e nazionale da vent'anni a questa parte. Se dovessimo a questo punto ricominciare a rieducare i cittadini, da dove bisogna ripartire? Rieducare i cittadini come si dice sempre dalle scuole, ma si può fare anche con delle azioni continue. Quando io metto le telecamere e lo comunico, quando metto le telecamere e faccio i manifesti, faccio la comunicazione sociale di tutto quello che avviene, sto facendo un'educazione ambientale. L'importante è essere costanti in queste azioni, poi piano piano gli obiettivi si raggiungono, sono sempre positivi. Abbiamo avuto dei miglioramenti rispetto al passato, anche il semplice fatto che quando fai una giornata ecologica vengono a ripulire centinaia di persone. Dieci anni fa era impensabile che tante persone si mettessero a rimuovere loro stessi i rifiuti. E' segno che c'è una sensibilità ambientale che è cambiata e quindi dobbiamo essere sempre positivi. Ne usciremo perché la Sicilia è una terra assolutamente vocata al turismo, lo stiamo vedendo in questi anni ancora di più e quindi capiremo sempre di più l'importanza di tenere pulito il nostro luogo. Grazie.